Ma questo non ha finito la passa ai cazzi, questo qui, perché non ti fai i cazzi sui? 120 euro! Questo, perché non ti fai i cazzi sui? Perché? E che ne so? Eh? E che ne so, io me lo dico a me? Ma i cazzi tu non devi sapere? Eh? Ancora? Ho preso la moto, 120 euro! Ma gliel'ho data io la moto, che si è preso? Che si è preso? Che si è preso? Ma sta dormire a casa di occhio? Ma che cazzo da frega a te tu sta dormire? Pensa un po'. Hai capito? Mi vuole la mettere sotto col furgone. Ma ma magari... Eh? Oh, se la fanno i tempi e la romper cazzo. So, se va a conoscere da tutti, se va a conoscere. Tu hai fatto i guai se non ti fai cazzi sui, eh? Sì, vabbè. Non ho detto niente ora. Sì, vabbè. Passo di guaio. E tanti. Ma già ce l'hai i guai? No, ma già ce l'hai i guai? Ma già ce l'hai i guai? Sì, sì. C'erano tanti. Guarda un po'. 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 Sì, vabbè. Sì, vabbè. Sì, vabbè. Domani fare al ciugolo, Fabio. Domenico. Non fanno le opere. E stanno la frigorifero. Allora, vabbè. Fare al ciugolo domani. Capito? Centiniamo il pane. Aspetta. A moto. Che c'è fatto la moto? Che c'è fatto la moto? Non c'è fatto la moto. Mi posso andare manco io con la moto. Che c'è fatto la moto adesso? E bippe che fai? La metto in moto quello? A me, sennò se rovina sta bene. Sì, sì, sì. La batteria la sei rotta. Sì, la scala. La batteria la durazione è scala adesso. Non lo può piano. Poi non ci vede. Dove vai? No. Non la posso piano. La metto in moto per far sentire. Sì, c'è fatto quello che cazzo io, ma quello ce l'ha. Poi io la regalo la moto. Ma che io regalo? Che io regalo? Quando ce l'ha visto a posto andavamo io. Sì, sì. E poi c'era da spasso un po' di io e ce l'ho vado. Ma come ti detto? Chi ho calito? A stagli di cavolo a gente, oh! Ma l'ha finita. Mi capisco. E domani? Domani è calito? Sì, come le cazzine di canne. Sì, come le cazzine di canne. E andavo giù perché l'ha visto. Ma che ha fatto i cazzi tui? Ma ha fatto i cazzi tui? Lei non può uscire? No. E io non puoi decidere? Certo. Non fai come cazzo che pare. Quante uova ti stai mangiando? Quattro. Quattro te fanno male, porco Dio. Perché? Perché fanno male troppe uova. Dio carne, che so? Noccioline, che so? No. Magne le due e basta. Eh, le mangio due. Le mangio due. Porco Dio. Oggi ne mangiate tre. Quante ne mangiate oggi? Manco una. Come? C'erano tre uova. Chi ne ha mangiate? Non le mangiate? Due le mangiate. Si. Mi fanno male il petto. Sreva. Non capisci niente. Ah, Domenico. Avevo messo le robe, no? Poi dopo ho riprovato a aprire perché era troppo poche erano la roba. Allora c'è un petto le mutande. Non gli si apre la lavatrice. Quando c'è andata a cercare di aprire non si apre? Eh, ora l'hai rotta. Si. Eh, Dio carne, non la vedi aprire quando la lavatrice. Fabio ha detto, perché non hai fatto la lavatrice non ti apre. Eh, si, è bloccata. Ma quando le metti e non la fai non ti apre, vero? Eh. Allora è così. Penso, pure io. Eh, eh, è stata bloccata. Perché ieri o alla corrente non gli arrivano. La corrente non gli arriva e non... Non si blocca. Non l'aiuto, non l'aiuto, non l'aiuto. Dove? 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 Ah, hoe se alessi qui? Lo do 돼 sono in tante. Ero momento di quelli di 15 ieri. Eh, si, va bene. O le cocci. Lo usano tutte. Le cocci per lì, vieni la cocci. Ma secondo che li li ramm undermine fine tu. Adesso, Dio carne, no? La parte Character? Adesso si fa la lavatrice. Qui, per McOOOOOD. Adesso si fa la lavabrica? Quando le devo fare alla lavatrice? Ti fa la morri di lì con tutti. Alluna di notte mi sti sotto? gli sbatte non cercano le scarpe quando c'erano le pantoffole sbattevano le pantoffole non c'erano a te ci arriva e c'è bello a me a luna di notte si fa la vada di frega un cazzo che te la prega a te ci mi frega ma tu la devi far finire la far pazza c'è 40 anni ma sanno tutti che sto pazzo sono tutti che si faccio 7 quando portano via che provasse giurata non ti ricordi che ho preso la botta la botta capite a me capite a me capite a me no che stai facendo? che ora sta a fottarmi via la capite a me si si non hai capito e vai a romper il cazzo al latte che non hai capito? don me alla fine del mese vai a vederti l'occhi? hai capito? e va bene ti devi fare i cazzi tu hai capito ancora? ti hai messo a ripetere eh l'hai fatto bene certo che ha da rire ma tu ancora non hai capito che vai a campare non te la dà tu la moto? ti devi fare i cazzi tu hai capito? la moto gliel'ho data io si che l'hai regalata? non ho regalato niente ma hai passato qua il Fabio tu hai capito? con i carabinieri con i cosi che li portano via eh ma gli fa il video basta di ricarci qui ecco con quell'ova se stai mangiando ti ho detto che te fanno male eh basta no? basta con l'ova le devi fare domani ecco le mangi domani ti ho detto che fanno male porco Dio mangiate un'altra cosa ma porca madonna mangiate i cibo hanno parte che mangi? eh mangiate un pezzo mortadella le più tutte non c'è sta la mortadella quella del pollo che è? sta mangiando un sacco d'ova sta mangiando io cane mica può mangiare dieci ova porco Dio dopo crepi l'ova fanno male se intoppi si si ma se intoppi al culo sono pesanti la tira l'ova capito? si si sono pesanti questo non ragione dai vai ieri mettere via posso mangiare l'ova non posso mangiare quello non posso mangiare l'altro non ti abbaccia tu adesso io ci sto adesso ma mi ha detto che io la sono un bruto non è che sei un bruto non è che sei un bruto non è che sei un bruto siح un bruto non è che sei un bruto non è che sei un bruto non è che sei un bruto non come gliela levano mi devo fare l'occhio ne posso portare il primo secondo la moto se sta fermo si si rompe la moto perché la batteria raggiù non parte più capito a metterla giochi ammetteremo con la posso mettere in moto perché si rovina la definita giusta mi devi mettere la cinta no ma proprio per questo che perché sono fatti per cambiare la cinta mi devi mettere i pezzi deve fare altre cose è data a tutti la data l'hai data l'hai data a manuella l'hai data non te la posso la data da kim l'hai data a mirko non da mancherebbe che i ragazzi a dania a terra la posso da dama a te della vostra davide ma a te te la posso da davide pure di paolo liberati a tutti e la posso dare a tutti che le hai la patente il fatto che sono giustata va bene ci mancherebbe che gliela daria sgasso ha capito che tu ti scemo però te ho ridi un'altra volta la devi far finita la devi fare finita la fare con me dalla parola capisci o no a te manca niente la capitan e bagliaro per cazzo all'arte va bene capirai era complice sarà un motivo perché gliela do perché lui è perché sta ferma se rovina perché è bello non c'erava bene la devi tutta cosa che c'è porta cosa che c'è porta a spasso con la moto che gli pare ci porta bucchialoni è portato e bucchiali ma quando posso con quel bambino che cazzo io ho fatto dai carabinieri eccoli lo stavolo ma quando stavo la moto come muovano di basta vedi io a cercare i carabinieri i carabinieri e che ce l'hanno con lui i carabinieri che c'erano con lui lui li va a cercare li va a cercare li va a cercare come sa loro che invece arriva a cercare non li devi né guarda né saluta ti fanno partire qua c'era dire il fatto che vedrai a cercare il tempo per provare in capito a cercare i carabinieri dov'è mangiare i carabinieri eccoli che c'è un'altra parte del tipo da è fatta vedi mutare un trucco di medici 06 cosa si è il punto da fare dalla cazzo in motore è stato un perotere di all'arabinieri ma se uno mi ha visto a fabbrica che gli sta più al motorino non ha capito ancora se tu continui a rubare dopo che ti fanno che ti fanno ha capito che ha fatto ma ti continui a prendere i motorini ancora ancora oh gran figlio di una mia paraguola ma che paraguola guardate madonna parliamo piano che c'è stata questa di fronte e è ritornata ma capiamo che è successo tu gli dai il motivo da portarti via io lo devo un motivo o no chi lo dà il motivo? io te l'ho detto che puoi portarmi non devi toccare i motorini te l'ho detto in canto mia morte ma come stai in attesa che ti mandano un affanculo che stanno dove ne portano ma non mi compro ma passai qua e questo ma non la capire le faccio sei? ancora continua ancora non ti abbatta non ti abbatta non ti abbatta non la devi far più ha capito ha capito la metta tranquilla porca mignotta e che cazzo sta sempre io col pensiero tuo me chissà nel combini allora avete visto che la pietra è tanto bene andiamo avanti dunque questa è un'equazione è un'equazione è un'equazione è un'equazione è un'equazione Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.